Ed è proprio con il breakout di questo livello di minimo, quello del 18 di aprile, che Bitcoin vira al ribasso un trend di brevissimo periodo e gira l'intero ciclo settimanale di cui vi avevo parlato nella giornata di mercoledì al ribasso. E' forse un po' la prima volta che vediamo dall'inizio della fase del minimo di marzo un trend ribassista pronunciato di Bitcoin che va a breccare anche le mie due medie mobili indicando in sostanza che questa fase è un po' terminata, la fase di rialzo dal 10 di marzo. Poi vediamo dove arriverà questa fase ribassista ragazzi perché da lì potrebbe iniziare una nuova fase appunto di ripresa ma dovremmo fare i conti con quello che vi sto dicendo da un po' di giorni, da un po' di video cioè il fatto che i tempi sono un po' maturi e che il ciclo annuale, la parte bullish l'ha già fatta ragazzi perché è iniziata a novembre. Perciò da qui in poi si entra in modalità trade on o trading on potrei dire io ragazzi perché da qui dovremmo iniziare a ragionare un po' più di trading. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video aggiornamento di quello che è la situazione attuale dei mercati delle cripto dopo qualche giorno di burrasca ma soprattutto la perdita di alcuni livelli molto importanti. In primis i 29.000 dollari per quanto riguarda bitcoin e poi adesso bitcoin stesso sta lottando in pratica con i 28.000 dollari. Dovremmo infatti vedere se riuscirà a mantenerli questi 28.000 dollari ma già vi dico che il supporto importantissimo è posizionato a 26.500. Il breakout di 26.500 cambierà radicalmente tutta questa fase che poi diventa bearish cambiano proprio alcune prospettive. Dobbiamo andare con ordine ragazzi nel video di oggi perché bisogna intanto vedere quello che sta succedendo da un punto di vista daily ma poi guardare anche team perché si è innescata questa fase ribassista di bitcoin e anche delle altre cripto proprio nella terza ondata dei prelievi. avvenuta ad aprile nel giorno di 18 ragazzi 19 aprile che vi avevo fatto vedere cioè la questione che binance ha sbloccato in pratica la possibilità di fare il withdraw degli eth in stake. Questa è la terza ondata importante ne manca solo una teoricamente che è quella di Lido che dovrebbe avvenire a maggio quindi teoricamente anche lì la prima decada di maggio dovrebbe essere attenzionata che è una data che coincide ancora una volta anche con scadenze cicliche abbastanza importanti e che dovremmo appunto ragazzi tenere sotto stretta osservazione dal mio punto di vista. Allora questa fase di ethereum sicuramente è stata una fase scatenante perché ha modificato un po' alcune cosette e poi la perdita di supporti importanti sia su bitcoin che su ethereum hanno innescato la fase ribassista. Un po' ragazzi l'accenno a quello di cui avevamo parlato cioè la fase riflessiva di breve periodo dell'effetto boomerang del unstake di eth si è sentita. E' una fase che secondo me resterà legata al breve periodo per quanto riguarda ethereum però ragazzi un breve periodo soprattutto nei mercati delle cripto non è da sottovalutare come una cosa da niente perché vi può dare degli schiaffoni molto rilevanti e soprattutto può scendere il mercato anche in maniera consistente del 30-40% a volte nel mercato delle cripto. Soltanto nell'arco di 1-2 mesi che poi nei mercati finanziari 1-2 mesi sono breve periodo ragazzi quindi ricordate di scendere il concetto di breve periodo da quello che siete disposti a subire in termini di volatilità dal mercato. Perché ok breve periodo poi nel lungo periodo questa questione della unstake di ethereum dovrebbe essere positiva assolutamente io lo penso così però noi non sappiamo poi come prenderà il mercato questa cosa e il breve periodo potrebbe essere comunque un ribasso consistente. Quindi o siete con le spalle forti riuscite a sostenere questa volatilità o dovete interrogarvi se l'orizzonte temporale di lungo periodo che avete scelto è adatto a voi oppure semplicemente sarebbe meglio magari switchare ad un orizzonte temporale un po' più di medio imparando due tre regolette di trading e sentendovi un po' più tranquilli quando esistono quando ci sono questi movimenti. Allora anche ethereum ragazzi sta sguicciando da un punto di vista delle mie posizioni in hold quelle di bitcoin sono uscite nell'ultimo ribasso in questo candelone che vedete nella giornata di mercoledì quelle in ethereum invece no probabilmente usciranno stanotte a meno dei cambi di fronte vi dico francamente. Quindi tutte le posizioni in hold sono state chiuse non sono state attivate posizioni long del breve periodo perché bitcoin avendo invertito questo ciclo da qui non ha iniziato nessuna fase di alzista. Vedete quanto è importante come vi dico sempre attendere che il mercato vi dia una prima fase di inversione anche di piccola taglia nel corso spiego sempre una strategia a doppio time frame che vi consente appunto di evitare un errore di questo tipo. Quindi io qua non c'erano alcune posizioni da prendere long anche se l'attesa era di un'eventuale fase di alzista che però poi il mercato vedete non ci ha dato e quindi non avendolo data questa fase di alzista nessuna posizione è entrata. Quindi questa fase di alzista in pratica non esiste per chi come me ragazzi ha gestito questa posizione ovviamente anche in academy tutto pubblicato anche qui anche lì non è stata presa alcuna posizione long anzi sono uscite tutte le posizioni long proprio perché siamo trend follower. Quindi ok sicuramente fa da fastidio ragazzi non mi nascondo che io personalmente quando vedo uscire da posizioni da app no magari maggiori da massimi maggiori mi nervosisco ancora oggi dopo non so sono passati vent'anni ragazzi vi assicuro mi nervosisco però seguire la strategia avere un piano d'azione è fondamentale per stare a galla sui mercati nel lungo periodo ragazzi tutto il resto è noio ve lo garantisco al 100% chi è formato ampiamente chi ha decenni di esperienza sulle spalle sa che tutto il resto sono barzellette e chiacchiere da barra perché per stare sui mercati dovete essere formati e avere un piano di azione senza un piano di azione non si fa nulla nel lungo periodo si rischia solo di perdere tempo. Allora questo discorso qui nell'ambito di Ethereum ci dice anche un concetto di analisi ciclica fondamentale ma ancora un trend che potrebbe essere rialzista in termini di analisi ciclica mensile Bitcoin invece inizia a stentare ragazzi. Allora andiamo per gradi ragioniamo su Bitcoin analisi ciclica vi faccio vedere anche i weekly c'è una data che vi voglio far vedere è una data importantissima e poi c'è questo grafico che vedremo alla fine del video perché questo è il grafico che ci ha dato una mano enorme all'inizio di novembre e ora sta facendo di nuovo secondo me il miracolo tra virgolette. Andiamo a interpretare nuovamente. Allora iniziamo da Bitcoin per quanto riguarda la questione dell'analisi ciclica se il mensile di Bitcoin è iniziato in questa zona sul minimo del 9 di aprile a 27 e 8 è in pratica quasi tirato a ribasso pericolosissima quindi questa fase ragazzi perché se la struttura ciclica mensile di Bitcoin è quella che stiamo indicando qui è un po' cioè ci sono due logiche da fare perché in realtà l'analisi ciclica classica non sposa questa view in quanto il minimo non è avvenuto in questa zona bensì è avvenuto più qui quindi in zona 18-20 questa dovrebbe essere poi una fase di minimo però anche qui bisogna andarci con i piedi di piomba ora vi dico come si fa insomma perché potrebbe essere una struttura doppio mensile di natura ternaria si definisce in questo modo. l'andremo a vedere comunque tra poco però la perdita comunque di questa fase e anche se fosse un mensile ternario sposta in ogni caso l'attenzione al fatto che siamo in una fase che potrebbe avere un leggero up di ripresa e poi la fase finale del mensile. in sostanza la ripresa di questi massimi di periodo relativi di Bitcoin verrebbe spostata alla seconda parte del ciclo semestrale dell'annuale e quindi come vi dicevo un po' la mia paura si è andata a verificare cioè quella che maggio potrebbe essere una fase di minimo e non di massimo ancora non è del tutto sicura questa cosa perché fino a quando regge comunque la zona dei 26,7 o 26,5 una possibilità la possiamo ancora dare alla eventuale fase di ripresa che magari potrebbe venire la prossima settimana già vi dico la prossima settimana perché nel grafico che vi mostro tra poco è indicata una data ed è appunto fine settimana questa che dovremmo monitorare. quindi o da qui ragazzi si scende alla chiusura del ciclo mensile in maniera finale oppure il mercato sta facendo un doppio ciclo mensile da circa 60-70 giorni di solito lo fa un po' più lunghetto che ha una forma però in questo caso di natura ternaria e quindi così strutturato con mini cicli in pratica da 20 giorni che avrebbero un po' questa struttura scusate ma dal trackpad del del mac è sempre complicato quindi vedete una zona fatta così 20 giorni 24 e poi probabilmente l'ultima struttura ciclica mensile che va a chiudere i giochi questo significa anche che se noi siamo in una struttura del genere il mercato è pronto tra qualche giorno magari a dare una piccola fase di up una piccola fase di up che però quella è proprio la cosa grave cioè ragazzi potrebbe non arrivare mai a questi massimi e quindi puoi andare a chiudere tutta questa fase così proprio nella decade di maggio la decade di maggio che a quel punto andrebbe a innescare non un minimo importante come all'inizio dell'anno avevamo pensato sulla teoria dei minimi di maggio ma un minimo relativo sì perché comunque la scadenza ciclica potrebbe essere in ogni caso intorno alla prima decade del mese di maggio da lì in poi bisognerà vedere dove arriviamo proprio in questa struttura quindi io al momento mi sento un po' di sposare di più una struttura di ciclo di natura ternaria quindi due mensili di natura ternaria e quindi una fase tra un paio di giorni di eventuale ripresa che monitorerò perché se è una ripresa forte deve andare a fare il doppio massimo rompere questi massimi e quella è l'unica chance che abbiamo ragazzi per rivedere nuovi massimi in questa fase se non avviene cioè se noi non riusciamo a superare per esempio neanche le due medie che sono qui che adesso diventano un livello di resistenza non più di supporto e quindi non riusciamo a superare più i 29.500 il mercato andrà in chiusura di questa struttura ciclica a metà di maggio la prima decade di maggio e a quel punto bisognerà vedere cosa resiste di questi livelli perché anche una pullback intorno ai 25 è assolutamente possibile in questa fase dopodiché si rimanda tutto al successivo fase di ciclo quella di giugno luglio per vedere se il mercato riesce ancora a raggiungere nuovi massimi prima della close del ciclo annuale di bitcoin che dovrebbe arrivare verso fine anno quindi tutto da giocare questa partita ma soprattutto diventa una partita per trader come vi dicevo un po' più difficile per i holder in questa fase ma se siete holder e non vi frega niente siete entrati su questa fase di bassista di cui vi ho parlato intorno ai 21.000 dovete starci a questa cosa ragazzi perché poi magari tutto rimandato nel 2024 ma i holder ragionano ad anni ad anni e quindi questa cosa ci può stare mentre per i trader questa è una super opportunità ragazzi perché se i mercati ragionano in questa fase il ciclo attuale che vi ho detto può essere tradato è tradato anche molto bene io non vado short su bitcoin ma chi lo fa ovviamente potrebbe anche decidere di shortare un'eventuale fase di ripresa qui proprio in vista di questa struttura ciclica in chiusura vi faccio vedere quella grafico che vi avevo promesso prima del grafico più importante che è quello legato al ciclo settimanale di bitcoin che a questo punto è stato chiuso il 18 e l'idea che avevamo avuto nel video di mercoledì che questa fase fosse una imperfezione quindi una lingua di bio si chiama così non è stata confermata perché il mercato non ha fatto alcuna ripresa quindi al primo break di questo livello di minimo ovviamente è stato confermato che questo ciclo era un settimanale già virato a ribasso che ha una scadenza minima ragazzi sabato 23 domenica quindi teoricamente fino a domenica qui ragazzi non possiamo fare altro che lateralizzare o eventualmente scendere ovviamente prendete con le pinze ovviamente sempre questi dati perché se poi il mercato ci inverte di brutto vuol dire che ha chiuso prima è un po' anomalo però eh ve lo dico ragazzi almeno un 5 giorni di solito li fa c'è da dire che se la struttura di questa fase di app è anche legata a un ciclo B settimanale e quindi rispetta il concetto che da qui era iniziato il nuovo mensile bla 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 insomma ragazzi siamo molto deboli e da lì non da qui ovviamente il nuovo mensile da qui intendo dalla fase di dove sta ok di aprile vabbè ve lo faccio vedere perché nel settimanale da qui dalla zona più o meno del 3 di aprile perché sul grafico più corto 90 minuti questa non riesco a vedere i minimi allora detto questo ragazzi quindi questa fase di ribasso da qui si giocano tutte le partite quindi quando chiude questo ciclo in pratica noi dovremmo assistere alla fase di ripresa che o è consistente appunto ci porta a tentare di ritornare in questa zona oppure è un must short cioè è lo short per la chiusura del ciclo poi trimestrale di bitcoin nel secondo trimestrale detto questo io monitorerò questa fase la prossima settimana mi interessa moltissimo perché traderò la fase di ripresa di questo ciclo lo so alcuni di voi dicono ma Mauro tu short io short su bitcoin e ci vado poi siamo a prescindere nella fase comunque di un nuovo annuale io me la tento in una fase long ragazzi anche se non ho grandi aspettative ve lo dico in maniera molto chiara ma come sempre non vado in by the deep aspetterò che il mercato darà dia una reazione superiore per esempio a queste medie con i miei bot quelli che usiamo in academy insomma attendiamo poi una reazione se la dà comunque entriamo in long con chiaramente annessi e connessi di hyper stop trailing stop e qualsiasi cosa perché è un'operazione di trading pura questa quindi non è possibile utilizzare cioè fare tutto discrezionale senza trading plan è assolutamente possibile ovviamente non sono consigli finanziari e ne parliamo in ogni caso ragazzi poi nei video di lunedì perché sicuramente questa fase nel weekend potrebbe produrre un po' di danni va bene allora detto questo vi faccio vedere l'altro grafico lo spread bitcoin nasdaq 100 il risk on risk off nuovo ciclo annuale iniziato di questo spread il minimo del 20 sul minimo della settimana del 21 di novembre come poi il ciclo di bitcoin ha dato dei segnali pulitissimi ragazzi ora c'è una questione che volevo farvi vedere qui siamo in una fase delicata perché 105 giorni se questo ciclo è un ciclo che insomma rispetto al precedente che era di natura ternaria dovremmo andare a chiudere il ciclo semestrale in questione tra un po' di tempo e un po' di tempo è ancora una volta una data indicativa importante cioè il mese di maggio ragazzi fine mese di maggio cosa significa che probabilmente da qui in poi un mese di tempo insomma noi siamo al 20 di aprile in questo mese si vanno a delineare un po' queste cose che vi dicevo ancora qui abbiamo una sola settimana vedete mi faccio vedere la quick questo è un grafico quickly ancora abbiamo una sola settimana con una black candle long black candle però ragazzi se da qui la prossima settimana il mercato non riesce su questo spread questo è uno spread ragazzi e quindi è un grafico creato dividendo bitcoin per nasdaq quindi praticamente sarebbe il prezzo di bitcoin espresso in termini di punti dell'indice nasdaq 100 quindi una cosa un po' particolare noi lo usiamo solo questo per avere una direzionalità dei trend non può essere utilizzato per essere tradato perché dovete fare delle cose particolari però se questa candela perde poi il suo minimo nella prossima settimana rischia gravemente di fare una cosa così ragazzi e ve lo dico in maniera molto chiara cioè di confermare tutta la struttura ribassista a quel punto entriamo nell'ottica della close del ciclo semestrale di questo grafico quindi poi dobbiamo attendere la chiusura e da lì solo da lì poi auspicare per un'eventuale fase di ripresa ma sarà importantissimo vedere dove siamo arrivati perché se fa una cosa del genere e va bene mi sta anche bene ragazzi poi qui avrebbe ancora la possibilità di tentare nuovi massimi a quel punto non saranno nuovi massimi tra aprile e maggio come quelli che abbiamo avuto alla fine il rispetto delle nostre analisi legate al ciclo annuale ma saranno poi eventuali massimi fatti a luglio agosto benissimo mi sta bene così però questa struttura ragazzi non è per niente scontata mentre il massimo fatto ad aprile maggio che avevamo seguito era un po' più probabile cioè quindi qui entriamo in una logica di probabilità che è un po' più irrisoria ragazzi dobbiamo stare con due piedi in una scarpa ve lo dico molto chiaro quindi se fino a metà di aprile c'eravamo dentro a dire la verità vi ripeto c'è ancora l'ultima chance non quella che vi dico nella prossima settimana ma bisogna vedere dove siamo arrivati alla fine di questo ciclo settimanale da lì in poi insomma è una chance quella prossima settimana molto blanda però c'è ancora quindi la possiamo valutare da lì in poi poi si gioca di probabilità non dico al 50 e 50 di fare nuovi massimi ma magari 55 e 45 ragazzi ok comunque questo è un grafico importante monitoriamo e lunedì lo vedremo questo livello di minimo l'ultimo swing di minimo questa zona ragazzi non c'è un prezzo perché è un prezzo irrilevante qui perché è uno spread ragazzi ma è solo la forma delle candele che dobbiamo andare a vedere questo è il grafico più importante secondo me da andare a guardare allora vi ho spiegato un po' tutto quello che c'è da fare entro la fine della settimana situazione delicata ma comunque bitcoin ha performato il 100% dai minimi di novembre ragazzi bisogna anche accontentarsi secondo me la fase iniziale alla fase attuale deve essere una fase di respiro del mercato dove dobbiamo ricostruire alcune cose e il mercato non deve scendere più di tanto e anche assorbire la questione e dirimo che è comunque molto rilevante ragazzi e vedere quello che succede per oggi è tutto vi auguro buon weekend e me ne vado a mare ragazzi seguitemi sugli altri social perché sono in vacanza in su un'isola va bene ciao a tutti